talk about it benvenute e benvenuti a talk about it la trasmissione che ho la fortuna di condurre nata dalla collaborazione tra radioattiva e la sezione it di un'industria oggi eh ci occupiamo di un tema estremamente interessante dopo aver trattato come sapete numerose tematiche legate all'innovazione tecnologica e oggi ci vorremmo dedicare eh all'analisi delle strategie europee nell'ambito di alcuni temi particolarmente importanti sia dal punto di vista diciamo delle imprese ma soprattutto dal punto di vista dei cittadini di noi cittadini e i temi che affronteremo sono quelli della sovranità dei dati a partire ad esempio dai regolamenti di recente emissione da parte la comunità europea faccio riferimento al data government government act eh faccio riferimento al data services act ma lo affronteremo ed entreremo nel merito diciamo di questi di queste tematiche con due ospiti d'eccezione che saluto e ringrazio e in e introduco e mi riferisco all'avvocato Rosario Imperiali benvenuto avvocato buonasera a lei e l'ingegner Aniello Gentile benvenuto ingegnere buonasera allora l'avvocato imperiali è eh avvocato specializzato in normativa data protection italiana e internazionale ha una esperienza ultra trentennale in tema di protezione dei dati personali al servizio delle imprese e degli enti pubblici ha una eh carriera eh estremamente importante ha una serie di iniziative che hanno caratterizzato come dire la eh sua presenza in questo dominio specifico eh dal punto di vista eh normativo eh ha fondato e guida il network imperiali eh composto dallo studio legale imperiali d' afflitto da house of data imperiali data come dire tutta una serie di iniziative che ruotano appunto al mondo eh della normativa relativa alla data protection eh e anche fondatore di un recente tank chiamato officine dati se non sbaglio e per cui avremo l'opportunità oggi di affrontare insieme a lui e all'altro ospite che appunto l'ingegnere Aniello Gentile che è oltre ad essere ingegnere elettronico è in particolare dirigente dell'unità eh global cyber security di Enel ha una serie di di ulteriori incarichi che fanno riferimento ovviamente sempre al tema da una da una parte come dire del mondo dei eh dei dati ma più in generale anche quello del del cloud eh c'è un lungo diciamo dibattito sul sulle strategie e le politiche anche dal puntista dei governi riferiti al cloud al cloud penso al tema Gaia X che eh diciamo ho visto tra l'altro protagonisti eh anche gli attori che fanno riferimento alla sezione T di di un'industria come dire abbiamo come avete capito da questa introduzione degli ospiti un eh da affrontare una una puntata particolarmente interessante eh perché? Perché eh diciamo la strategia europea dei dati è stata pubblicata da meno di tre anni prevedeva un'azione eh legislativa specifica per fare cosa? Per creare e qui leggo ciò che è rimediente diciamo da eh l'European strategy for data della Commissione europea del duemilaventi per creare un autentico mercato unico di dati aperto aperto ai dati provenienti da tutto il mondo nel quale sia i dati personali sia quelli non personali compresi i dati commerciali sensibili siano sicuri che le imprese abbiano facilmente accesso a una quantità pressoché infinita di dati industriali di elevata qualità che stimolino la crescita e creino valore. Ecco in questi tre anni la Commissione è stata eh diciamo possiamo dire di parola e ha prodotto una serie di documenti legislativi anche particolarmente complessi che disciplinano il fenomeno sotto diversi aspetti anche se in parte interconnessi. Quello che citavo all'inizio è il Digital Services Act per le reti e per i servizi il Digital Market Act per le piattaforme eh e la concorrenza Digital Governance Act per la condivisione dei dati personali e e più il più recente il Data Act per l'accessibilità eh al valore eh rappresentato da quei dati. Arrivo alla prima domanda come dire stimolo ecco che eh rivolgo all'avvocato Imperiali eh vista ecco la sua lunga esperienza eh se ci può fornire qualche elemento ulteriore rispetto a quello come dire che brevemente ho accennato nell'introduzione sulla strategia della Commissione e sul suo valore per lo sviluppo della sovranità digitale europea eh all'interno di un mercato che è in grande grande espansione. Quindi lascio la parola all'avvocato Imperiali. Grazie eh grazie anche per l'invito eh diciamo per poter comprendere un po' eh l'iniziativa della dell'Unione Europea bisogna un po' partire da dietro nel senso che eh si parla di strategia quindi si parla di politiche eh regionali eh nei confronti degli altri player internazionali e soprattutto di Stati Uniti e Cina. Stati Uniti che vedono nella gestione dei dati eh una disciplina essenzialmente basata sulle regole di mercato eh la Cina mh in senso opposto dove eh considera che questa politica strategica debba essere fortemente diretta dallo Stato quindi dirigista dal punto di vista statuale. Eh però come una via di mezzo tra tra questi due estremi si posiziona la strategia eh europea che è una strategia eh basata su elementi valoriali eh e quindi sulla sulla connotazione continentale europea del diritto e quindi del valore umano centrico del dato. Quindi il dato è considerato come eh una espressione eh specifica eh dell'individuo e allora come si è sviluppata questa questa strategia? Eh in effetti eh così cercando di dare un fil rouge a quello che è avvenuto a livello europeo perché altrimenti si rischia di perdere il il controllo di questo profluvio di di regolamentazioni eh ho individuato cinque fasi principali. Cioè una prima fase in cui eh proprio per connotare questa sua peculiarità del continente europeo l'Europa si è ehm concentrata sulla tutela dei diritti cioè i diritti collegati ai dati e con realizzando il cosiddetto pacchetto eh dei dei diritti tra cui c'è il famoso regolamento generale sui dati che si usa con l'acronimo GDPR c'è il la direttiva sui dati per finalità di polizia c'è il la regolamentazione dell'uso dei dati per le istituzioni europee e c'è quella la famosa eh direttiva e privacy che sta tentando di di essere innovata con un regolamento dico sta tentando perché eh l'elaborazione è piuttosto lunga. C'è poi una seconda fase poi semmai possiamo ritornare anche eh per vedere il tracciato temporale di questa cosa perché sono eh abbastanza interessanti vedere anche i momenti in cui si sono eh dispiegate queste iniziative. La seconda. Sì lo ritengo opportuno anche perché eh già da dalla diciamo dalla sua introduzione eh non parlo tanto dal punto di vista del business ma come cittadino come dire poi ci sono rimaste nella memoria solo alcuni passaggi penso no all'acronimo GDPR che tutti quanti conosciamo però innanzitutto quella genesi che lei ricordava quella distinzione partiamo dai diritti e soprattutto avere una visione come dire che a partire da una cronistoria ci consenta di non non disperderci no tra il profluvio di di diciamo di normative a disposizione quindi ecco rimettere in fila come sta facendo lo ritengo utilissimo per chi ci ascolta. È interessante questo perché eh la l'Europa ha incominciato a regolare i dati personali perché il dato personale è l'informazione collegata all'individuo e quindi si trascina dietro quegli elementi valoriali di cui dicevo prima quindi il pacchetto dei diritti riguarda solo dati personali eh le 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 leggi che citavo prima sono tutte regolamentazioni sui dati personali ebbene però eh facendo un riferimento agli elementi temporali eh è bene dire che l'elaborazione di queste norme a differenza di quelle che poi andremo a vedere sugli altri dati che hanno costituito un po' la strategia dei dati, è un'elaborazione che ha richiesto anni, diciamo c'eravamo meravigliati della prima normativa sui dati personali che era la direttiva 95 e 46 che aveva impiegato 4 anni per uscire, per essere promulgata, abbiamo visto che invece il GDPR ne ha impiegati 5 e poi per non finire con l'e-privacy che dopo 7 anni, a gennaio compie 7 anni dalla proposta della Commissione ancora non si sa che fine farà, se uscirà, quando uscirà e ogni presidenza semestrale del Consiglio dell'Unione Europea il Paese membro che ha la presidenza dice che questa sarà la volta buona per far uscire questa norma e non si riesce a farla uscire perché il compromesso o i compromessi, dovrei dire, tra i vari stakeholder, quindi non solo tra il Consiglio e il Parlamento europeo ma anche tra tutti i portatori di interesse sui discorsi della riservatezza nelle comunicazioni elettroniche, pensate ai cookie, pensate ai siti web, pensate a tutti i tracciatori, pensate anche al digital marketing, è difficile da fare sì che si trovi una sintonia. La seconda fase di questa strategia è stata proprio quella come se il legislatore avesse detto va bene una volta che ho messo a posto i diritti adesso cerco di tenere in considerazione l'altra libertà fondamentale che è la libertà di impresa, la libertà economica e quindi mi dedico a liberalizzare, a disciplinare la liberalizzazione dei dati, guarda caso immediatamente i dati non personali, quindi ci ha tenuto a ribedire che liberalizzava i dati non personali, cioè ne agevolava la circolazione, per intenderci un dato non personale ad esempio è un'informazione sull'andamento di una macchina industriale, sono dati brevettuali, sono i dati meteorologici e così via, tutto ciò che non è riconducibile a un individuo. E qui abbiamo avuto il regolamento sui flussi di dati prevalentemente per evitare che ci potessero essere dei blocchi in questa circolazione come per esempio gli obblighi da parte di alcuni stati di localizzare i dati, quindi di obbligare a che i dati rimanessero sul territorio del paese e la direttiva open data, cioè per lo sfruttamento dei dati aperti del detenuti dagli enti pubblici per uno sfruttamento e per interessi pubblici in modo tale che fossero dati di tutti e quindi potessero circolare soprattutto per discorsi di business e di ricerca. La terza fase, quindi dopo aver messo a posto i valori, dopo aver consentito che i dati non personali potessero liberamente circolare ed essere sfruttati, il legislatore si è dedicato al mercato e ha detto che il mercato digitale si deve muovere secondo delle regole perché altrimenti veniamo a trovarci con la creazione di monopoli, pensiamo alle big tech che ad esempio nel digital markets act vengono chiamati gatekeepers, cioè in poche parole come potremmo dire in italiano, quei controllori mi ricorda quel film con Troisi dove c'era il viandante che passava un confine e quello dicevo un uccellino, tre fiorini, mi ricorda questa cosa, quindi evitare che ci fossero appunto dei controllori che non ti consentono di muoverti liberamente, di sviluppare liberamente le tue opportunità di mercato perché hanno delle posizioni monopoliste e quindi in poche parole applicano la regola prendere o lasciare e in questo ambito c'è stato anche il digital services act che è appunto la disciplina dei servizi digitali e entrambi questi due atti cercano di regolare il mercato. Come forse avrete potuto notare, non so se poi io l'ho detto in modo chiaro, quasi tutti questi interventi che ho finora citato sono avvenuti tramite dei regolamenti e per coloro che non sono dei giuristi, io dico che ho citato prima che c'erano delle direttive, la differenza è sostanziale perché il regolamento è una legge dell'Unione Europea che si applica in modo automatico e direi immodificabile in tutti gli Stati membri, quindi diciamo lo scopo è quello della uniformità, dell'omogeneità e questa la dice lunga, mentre invece la direttiva come sapete richiede, è una norma che si rivolge allo Stato, allo Stato membro affinché lo Stato membro applichi i principi della direttiva con delle proprie norme e quindi la direttiva deve essere poi adottata e prevedere che poi ci sia un intervento normativo del singolo Stato. Tant'è vero che quando se lo Stato membro non adotta la direttiva entro la scadenza entra in una fase di richiamo che poi può essere anche determinare una esposizione nei confronti, cioè lo Stato che non rispetta i suoi obblighi nei confronti della Commissione. Nel regolamento invece il discorso è diverso, è come noi cittadini che tutti noi siamo tenuti al rispetto delle leggi, in questo caso è una legge sovraordinata perché è una legge dell'Unione e non del singolo Stato, però ad esempio quello che andiamo a dire nell'ambito della strategia dei dati una volta che sono sviluppati tramite dei regolamenti saranno gli stessi obblighi in Italia, in Germania, in Francia, in Irlanda e così via. Quindi questo sta a significare che la politica digitale dell'Unione Europea è stata ritenuta così fondamentale, così strategica da dover richiedere un'unica legge in tutti e 27 i paesi. Quindi anche dal punto di vista dello strumento normativo è molto interessante vedere come è stata poi implementata questa strategia. La quarta fase, quindi abbiamo detto tutela dei diritti, liberalizzazione dei dati non personali, disciplina di mercato, la quarta fase il legislatore si è fatto un po' più coraggioso e ha detto bene adesso è il caso che io dica anche che anche i dati personali possono essere condivisi. Diciamo è quasi una cosa scontata perché a livello di percentuali se vogliamo dare 100 all'intero patrimonio informativo globale, secondo alcune ricerche il 94-95% di queste informazioni è costituito da dati personali. Quindi diciamo non dire che... La percentuale residua ha un senso di business se agganciata ai dati personali, cioè l'utilizzo penso al di là delle macchine industriali ma di un prodotto, di un oggetto da cui possiamo ricavare dei dati, ha senso se io lo associo a un... a quantomeno a... come dire... a degli archetipi di persona. Ovviamente devo aver fatto un lavoro su dei dati personali, è corretto. Cioè il senso di business è collegato al... Direttamente o indirettamente il business va sul consumatore, no? È un business... stesso la parola dice consumo, quindi ci deve essere una correlazione con l'individuo e peraltro siccome il concetto di dato personale è un concetto amplissimo perché ha in sé anche un elemento e un criterio di potenzialità indiretta di individuazione, quindi diciamo tanto per intenderci un indirizzo IP, una targa di un autoveicolo, un numero di telefono che non sono nomi e cognomi, sono tutti dati personali, addirittura delle tracce ematiche attraverso il codice genetico sono dei dati o possono essere dei dati personali. Quindi la quarta fase il legislatore che oramai aveva fatto un po' di esperienza ha detto va bene cerchiamo di andare a vedere con attenzione perché sta toccando dei nervi scoperti, cioè sta toccando la politica valoriale che abbiamo detto è quella politica distintiva dell'Unione Europea, ci andiamo a vedere come si possono condividere i dati e così ha emanato questo altro regolamento molto rilevante del Data Governance Act, cioè come governo i dati e che è il regolamento propedeutico per un'iniziativa che forse è l'iniziativa più rivoluzionaria nell'ambito della strategia dei dati che è la creazione degli spazi unici dei dati, cioè in altri termini pensate a delle forme di silos di dati ai quali si attinge sia da parte dei fornitori dei dati che alimentano questi silos sia da parte degli utenti dei dati che invece prelevano da questi silos e appunto su questa falsa riga l'Unione Europea ha emanato una proposta, la prima proposta di spazio unico dei dati che sui dati sanitari elettronici e su cui poi forse possiamo dire qualche cosa in seguito che costituisce un aspetto molto importante sia per l'individuo come paziente che per i sistemi sanitari nazionali e infine la quinta fase, la quinta fase l'Europa ha incominciato a regolamentare in modo verticale, cioè mentre prima erano tutte, sono tutte regolamentazioni orizzontali, quindi affrontano tutti i settori, tutti gli ambiti in cui questi dati si possono trovare, invece in questa quinta fase più matura è una fase più appettine dove e in cui si inseriscono due proposte, quindi vedete che siamo ancora in una fase di elaborazione, le altre che ho citato sono prevalentemente già leggi, cioè sono state già promulgate e sono la proposta per la regolamentazione dell'intelligenza artificiale e la proposta del cosiddetto Data Act che in effetti al di fuori di questa nomenclatura regola le informazioni ricavate dalla tecnologia IoT. Quindi come vedete sono entrambi due interventi molto peculiari dove il dato è strettamente connesso alle tecnologie più evoluta, quindi da una parte intelligenza artificiale e dall'altra parte IoT e quindi si cerca di regolamentare questi flussi o questa elaborazione, per esempio il cosiddetto machine learning, la capacità che possono avere le macchine sia di imparare ma addirittura di creare loro stessi dei dati o delle informazioni. Ecco, questi cinque momenti sono i momenti rappresentativi di quello che ha fatto, sta facendo l'Unione Europea e da cui si può meglio capire questo profluvio di norme che peraltro anche i loro acronimi non agevolano nella comprensione perché tra DGA, DSA, DMA insomma sembra veramente che siano. Si orientano rispetto a un argomento che investe in fin dei conti ancora prima che i destini di molte imprese investe la nostra vita come cittadini non solo europei ma cittadini del mondo. Avvocato, io ritengo che lei ci abbia regalato un quadro necessario per poter poi sviluppare una adeguata comprensione di un argomento che ha una complessità intrinseca e in più anche avere, e quindi la ringrazio, questa visione estremamente lucida, sintetica di quello che è lo sviluppo della strategia sui diversi assi e forse mi consento di dire ci fa comprendere anche le ragioni di una difficile sintesi tra la scelta che la comunità europea ha fatto di partire in premessa dalla salvaguardia dei diritti rispetto ad una spinta che tutti quanti noi abbiamo osservato come dire anche rispetto alle nostre professioni si parla di data monetizzazione da 15 anni e come dire forse ci siamo resi conto come dire che andava con maggior vigore trovato un'argine rispetto a un'impostazione diciamo europea e un mercato che in qualche modo ci vede ormai inseguire da una parte la Cina dall'altra i paesi statunitensi. Detto questo quindi con la scorta ecco di questo bagaglio adesso di razionalizzazione di ciò che riguarda la strategia europea io dico in generale rispetto al mondo dei dati scusate la semplificazione passerei all'ingegner Gentile che anche sulla scorta ovviamente della sua esperienza e dei suoi diversi incarichi che lo vedono ecco partecipare alla elaborazione ma anche alla declinazione della strategia europea ma anche quella italiana e in particolare ha un ingegnere interesse in prima persona rispetto ai problemi relativi alla portabilità dei dati non personale ecco se possiamo con il suo aiuto proseguire un po' ciò che ha avviato l'avvocato imperiali e quindi capire magari rispetto a quello che dicevo anche all'inizio no c'è un tema di cloud cioè abbiamo parlato di dati adesso c'è anche un altro tema che ci interessa in particolare quel mondo del cloud su cui risiedono quelle tecnologie che l'avvocato stesso citava penso al tema dell'intelligenza artificiale per citare diciamo l'apice delle tecnologie innovative che in qualche modo in maniera pervasiva sono ormai fanno parte della nostra vita più o meno inconsapevolmente prego quindi passo all'ingegner gentile che ringrazio di nuovo per la partecipazione grazie grazie a voi per l'invito saluto tutti quanti e ringrazio l'avvocato per la interessante storicizzazione delle fasi nelle quali mi ci ritrovo completamente tra l'altro essendo un grosso appassionato di storia trovo che questa chiamiamo la sequenza in cinque fasi assolutamente da proporre mi lascio dire come fatto didattico io volevo provare ad inquadrare il tema della portabilità dei dati nella come dire considerando la crescente importanza che a livello mondiale ha il tema della governance dei dati ormai esiste un termine che in qualche modo sintetizza questo tipo di sviluppo che è la datafication ovvero sia gli oggetti e soggetti del mondo reale sono accennato da poco fa l'avvocato vengono trasformati in come dire strutture digitali pensiamo alle cose più avanzate della dei del metaverso e così via che in qualche modo sta creando addirittura le altre vittorie quindi il tema del della portabilità è un aspetto fondamentale della consapevolezza che questa trasformazione digitale vede nei dati il carburante di questa trasformazione e quindi comporta che le persone e le organizzazioni debbono essere in grado di conoscere i dati che proseguono questo è un elemento fondamentale sotto quali condizioni questi dati vengono utilizzati come vengono trattati questi dati e quindi in qualche modo diciamo così come il dato venga a possa avere anche una sua valorizzazione economica sono state sintetizzate le iniziative che a livello globale stanno prendendo e l'avvocato accennato alle come dire iniziative nelle aree geopolitiche esterne cina e stati uniti con approcci in qualche modo come dire diversi in cina la come dire la cyberspace administration china riporta direttamente al partito comunista cinese per il trattamento della cyber security in cina e tutti i flussi trasfrontalieri cinesi sono soggetti ad un anale di sicurezza è molto importante quello che si sta facendo negli stati uniti qui la come dire posizione degli stati uniti è dublice da un lato tenta di facilitare il flusso dei dati transatlantico perché ovviamente essendo le principali aziende cloud statunitensi in qualche modo ha proposto nell'arco nell'arco degli anni tutta una serie di atti legislativi che facilitassero questi questi flussi ma ha anche un esigenza di garantire la sicurezza nazionale per cui negli stati uniti nel 2018 è stato proprio il cloud act che impone ai come dire alle aziende americane di mettere a disposizione delle dell'amministratore americane i dati che essi controllano laddove essi siano localizzati questo ovviamente ha portato tutta una serie anche di considerazioni nell'unione europea che in qualche modo poi fanno parte la cui risposta è parte dei documenti della legislazione che di cui l'avvocato ha parlato quindi cloud act in qualche modo è anche una come dire un elemento di valutazione della reazione europea a questo tipo di chiamiamola attitudine a voler a dover governare i dati è stata quindi prima reazione gdpr con come diceva l'avvocato gestione dei diritti della dell'individuo e nello stesso anno 2018 è stato avvarato anche la il regolamento sulla libera circolazione dei dati questo è un punto fondamentale perché nell'ottica della libertà di impresa questo regolamento mira ad abbattere gli ostacoli alle alla libera circolazione di dati non personali all'interno dell'unione europea in modo da promuovere questa economia questa data economy europea proprio per sviluppare le tecnologie emergenti che sono state citate i servizi cloud la iot il 5g e l'interesse artificiale un elemento fondamentale che era emerso da analisi di mercato fatte dalla commissione europea e che c'era un grosso timore nell'adozione dei servizi cloud da parte del mercato europeo proprio perché si vedeva un rischio di dipendenza forzata che si sarebbe generata dalla impossibilità di portare via i dati da questi sistemi cloud e l'articolo 6 questo regolamento della libera circolazione dei dati il cui titolo e poi portini dei dati chiedeva al mercato di avviare delle iniziative di autoregolamentazione affinché si sviluppassero dei codici di condotta che una volta sottoscritti dai provider garantissero alle aziende che utilizzavano quei servizi di poter portare via i dati quando il contratto servizio cessasse oppure quando le aziende decidevano di riportarsi in casa i dati quindi in qualche modo stabilire questi codici di condotta che garantissero questo questo primo governo dei dati che ogni azienda poteva mettere in cloud la commissione europea quindi facilitava un gruppo di lavoro di esperti il gruppo di lavoro veniva denominato swipe o una sigla sw i po switching cloud service provider io sono stato uno dei co share di questo gruppo in questo gruppo sono state rappresentate aziende fornitrici di servizi cloud e aziende utilizzatrici questo gruppo di lavoro ha steso fisicamente due codici di condotta uno per i servizi dedicati alle infrastrutture e l'altro dedicato ai servizi del software che danno come dire la possibilità di poter attuare sul campo questo questa portabilità dei dati in altri temi che cosa accade accade che le aziende che sottoscrivono questi codici di condotta garantiscono ai propri clienti la possibilità di asportare via i dati quando decidono di chiudere il contratto poi decidono di riportarsi i dati in casa questa questa iniziativa molto importante ha poi si è finalizzata con la consegna a novembre del 19 nelle mani alla commissione europea adesso in chi di questi codici di condotta questa iniziativa è come dire è stata poi avviata e seguita da un'associazione no profit che è stata fondata swipo nel cui board ho il piacere di partecipare che si porta a casa il compito di manutenere e sviluppare questi codici di condotta e soprattutto di raccogliere le adesioni a questi codici è molto importante garantire è molto importante raccontare come swipo cerca di garantire i diritti delle aziende utilizzatrici che spesso delle aziende utilizzatrici dei servizi cloud perché un elemento molto importante che si riscontra lavorando poi a livello europeo che mentre esiste una grossa consapevolezza da parte delle aziende fornitrici servizi cloud della difesa dei propri interessi è molto più scassa la consapevolezza delle aziende utilizzatrici dei rischi dei servizi che essi debbono chiedere in qualche modo a queste aziende che forniscono servizi cloud all'interno dell'associazione swipo abbiamo creato dei forti meccanismi di balance of interest che garantiscono ai alle aziende utilizzatrici dei servizi cloud di avere un peso equivalente a quelli che sono le aziende fornitrici per esempio giusto per citare la cosa più eclatante tutte le aziende utilizzatrici dei servizi cloud pagano un fee pari a 0 0 per far parte di questa associazione proprio se vogliamo che le aziende utilizzatrici servizi cloud possano dare il loro contributo fra l'altro all'interno dei meccanismi di governance esiste un sistema di pesatura che bilancia sempre i pesi di voto fra aziende fornitrici aziende utilizzatrici infine all'interno di questa associazione per rendere realistico e attuabile il diritto al porting è stato creato un segretariato per la gestione dei claim ovvero dei reclani se un'azienda utilizzatrice dovesse rilevare che un'azienda fornitrice che ha dichiarato di sottoscrivere il codice swipo effettivamente non lo stia seguendo può avanzare un claim che verrà esaminato da una commissione che abbiamo costituito per capire quanto sia fondato questo questo claim molto chiaro grazie volevo sottolineare una cosa importante circola circa l'attuale stato dell'arte questo codice di condotta questi codici di condotta sono stati sottoscritti dai principali player mondiali se avete tempo di andare sul sito swipo.eu troverete l'elenco delle dichiarazioni di adesione da parte dei fornitori e troverete all'interno di questa lista i nomi più interessanti oltre all'italiana ruba la francese ovh troverete google troverete amazon troverete microsoft quindi e altri quindi il mercato diciamo così concretamente comincia ad offrire sul proprio come dire una dei servizi che garantiscono a chi li utilizza che quando decide di cambiare fornitore lo può fare e questo è un punto molto importante che fa capire come attuare il diritto alla portabilità dei dati richieda uno sforzo e una consapevolezza costante dei propri diritti e dico e aggiungo dei propri dati grazie diciamo come chi ci sta ascoltando ha potuto apprezzare diciamo non mentivo quando in premessa diciamo vi preannunciavo come dire che la disponibilità di due ospiti così competenti e in grado di darci come dire una chiave di lettura di quello che accaduto la genesi di quello che stiamo vedendo come dire di spiegarsi ehm soprattutto nel recentissimo periodo riassumo come dire ehm dicendo che eh dal punto di vista della comunità europea il nostro approccio è stato quello che è partire come dire dai diritti in questo momento stiamo vivendo un di spiegarsi probabilmente della conciliazione tra gli interessi pubblici o di carattere pubblico e quindi anche che ci riguarda come individui con degli interessi privati e quindi ovviamente sono in questo caso mi riferisco agli interessi di carattere economico ehm quello che ci servirebbe servirebbe a me è che ci ascolta che ci eh deste come dire una mano a da a proiettare uno sguardo verso il futuro laddove eh faccio l'avvocato del diavolo diciamo mi pare di capire che probabilmente quell'approccio ci abbia in qualche modo reso il cammino dal punto di vista economico più difficile di altri paesi che per ragioni come dire che noi non condividiamo ma il dato di fatto è che oggi dal punto di stato ecologico la predominanza di carattere statunitense è la capacità oggi di immaginare qualcosa come dire di nuovo che ci disorienta potrebbe arrivare dall'oriente e quindi siamo un po' ad inseguire e anche per rivolgerci alle imprese come dire che ci ascoltano e in qualche modo eh inutile girarci ritorno probabilmente su alcuni temi siamo ancora troppo orientati all'adempimento GDPR è qualcosa è un adempimento ad assolvere vorremmo capire con il vostro aiuto magari in che modo le imprese in particolare quelle italiane possano cominciare a ragionare su quello su cui hanno lavorato per già due decenni al di fuori dei confini europei cioè come valorizzare i dati perché diceva giustamente l'ingegnere è una benzina ma i motori sono fuori e soprattutto abbiamo la dovere di progettare quei motori anche all'interno dei nostri confini oggi quei dati siamo abbiamo gli strumenti e ce l'avete raccontato in grado di riportarli indietro di proteggerli ma la capacità ovviamente di costruire su di essi delle proposizioni di valore questo è ancora un po' difficile per le aziende italiane che hanno quindi bisogno di essere orientate rispetto a questo percorso io arrivati a questo punto farei un piccolissimo break e ritorniamo partendo come dire da questo stimolo con proseguendo nella nostra interessante piacevolissima chiacchierata a dopo grazie bentornate e bentornati a talk about it oggi stiamo parlando di un tema estremamente interessante parliamo di dati di parliamo di privacy parliamo di cloud di protezione dei dati e lo facciamo grazie alla presenza dell'avvocato rosario imperiali dell'ingegner aniello gentile che nella prima parte della trasmissione ci hanno dato un quadro generale delle politiche che hanno contraddistinto negli ultimi anni diciamo le scelte del in particolare dell'europa e attraverso l'intervento dell'ingegner gentile abbiamo proseguito rispetto a questa introduzione di scenario parlando di portabilità dei dati e quindi arrivando a introdurre anche il tema del cloud torno all'avvocato imperiali diciamo proseguendo ecco nella nostra chiacchierata chiedendo un diciamo partendo da una domanda eh diciamo essenziale a questo punto rispetto alle cose che ci avete raccontate come si coniuga e come si potrà coniugare la riservatezza con la portabilità eh e eh un'ulteriore domanda ecco rispetto eh a quello con cui concludevo diciamo la prima parte della trasmissione diciamo dal punto di vista delle imprese no? Eh e quindi anche come cittadini siamo tutti estremamente orgogliosi di aver introdotto degli strumenti che ci consentono di proteggere i nostri dati e di riportarli all'interno dei confini dei nostri territori ma alle imprese questo che cosa determinerà ci saranno una serie di addempimenti ulteriori eh ci sarà la possibilità eh per chi farà parte diciamo di questo movimento che in qualche modo eh riassumiamo all'interno della sovranità digitale eh ci saranno delle ulteriori certificazioni ecco qual è poi diciamo la declinazione di queste strategie e politiche alte rispetto come dire al la vita in questo caso delle delle imprese che fino ad oggi la mia chiosa era hanno probabilmente per una serie di ragioni vissuto sulla loro pelle eh i temi collegati alla privacy come una forieri di molti addempimenti e di poco di spiegarsi di valore prego avvocato allora io partirei da una considerazione eh l'Europa è il bacino informativo più ricco che esiste sul globo eh non è semplicemente un dato quantitativo ma è soprattutto un dato qualitativo quei quattrocentocinquanta cinquecento milioni di individui sono ad alto tasso di valore quindi anche se eh nel nell'area eh dell'Asia Pacifico eh i numeri eh in termini di popolazione sono molto più significativi ma hanno una capacità di spesa eh ancora inferiore eh a quella dei consumatori europei eh quindi sono una preda molto ghiotta ad esempio per il mercato statunitense eh questo è il motivo per cui eh Europa e Stati Uniti stanno cercando di mettersi d'accordo sulla regolamentazione dei flussi transatlantici eh proprio per fare in modo che questi flussi non non vengano a privare i consumatori europei eh di quell'elemento valoriale che contraddistingue l'Europa rispetto agli altri agli altri partner e eh di fatto si può dire che eh sempre facendo dei discorsi abbastanza generali eh che l'Europa sta avendo un benchmark regolatorio eh nell'ambito del mercato globale dei dati lo si è visto con il GDPR che ha una grande forza attrattiva da parte degli altri contesti internazionali ad esempio la legge eh sulla protezione dei dati la legge californiana sulla protezione dei dati il CCPA è eh risente molto del del GDPR eh la legge indiana eh che è ancora in forma di di proposta ma guarda molto al al GDPR e eh diciamo vi sono altri contesti come il Sud Corea eh il Giappone eh che sono paesi che eh hanno ottenuto molto in considerazione il benchmark europeo e in effetti si potrebbe dire se non stessimo parlando di leggi di eh diciamo di potestà normative si potrebbe parlare che eh del fatto che l'Europa ha creato degli standard internazionali dal punto di vista regolatorio e questo è vero almeno le prime indicazioni ci dicono che è così anche per le regole eh sui dati dell'ambito della strategia dei dati la la proposta sull'intelligenza artificiale la proposta di regolamento di intelligenza artificiale non solo è stata la prima proposta di regolazione dell'intelligenza artificiale a livello mondiale ma eh costituisce anche nei nei dibattiti che stanno seguendo eh per per mettere a punto questa proposta eh eh diciamo sta arricchendo di discussioni questa materia che non è facile da regolamentare da disciplinare e gli altri paesi stanno guardando con interesse a questo sviluppo e cercano appunto di tesorizzare queste discussioni quindi questo per dire che la legge non è solo un fastidio vorrei fare da questo punto di vista una metafora eh con la circolazione stradale è fuori di dubbio che eh i freni degli autoveicoli sono dei freni sono come dicono come dice stesso il termine che li contraddistingue è un diciamo è una leva di controtendenza rispetto alla velocità degli autoveicoli ciascuno di noi vorrebbe andare al massimo della velocità però eh ai freni e i freni costituiscono nella metafora la simbologia delle norme rispetto a un comportamento quale quella la velocità degli autoveicoli eh che sarebbe la libertà economica a tutto tondo ma ci chiediamo che cosa sarebbe una circolazione di un autoveicolo senza freni e certamente eh il diciamo il conduttore eh dell'autoveicolo quanto più è potente l'autoveicolo tanto più si preoccupa del fatto che ci siano dei freni adeguati quindi la regolazione non è a pregiudizio della libertà economica ovviamente la regolazione intelligente eh non non eh essenzialmente eh burocratica ma la regolazione di per sé ma anche la regolazione complessa come possono essere i freni a disco eh rispetto ai freni che una volta erano a tamburo quindi freni più complessi regolazione più complessa è direttamente eh proporzionata e eh connessa alla libertà che si vuole ai livelli di libertà che si vuole conseguire quindi quanto più libertà economica la si vuole avere la la stessa impresa richiede più regolazione tant'è vero che una delle regole principali della libertà economica è la concorrenza e la concorrenza si sa bene che deve essere regolata perché altrimenti eh ognuno eh va sui piedi del del concorrente cerca di eh contenerlo il più possibile. Detto questo qual è il possibile sviluppo che eh possiamo così da sulla base delle di quello che vediamo oggi come lo possiamo proiettare nel futuro? Beh indubbiamente da un'analisi che possiamo che facciamo di di quello che abbiamo detto nella prima parte eh della nostra riunione è che il ci sono da mettere a fattor comune due interessi apparentemente confliggenti un po' come abbiamo prima detto della velocità e dei freni da una parte i diritti degli individui e dall'altra parte la libertà economica e la libertà di impresa non sono antagonisti non sono eh incompatibili sono però mh da integrare con una certa attenzione perché è è un'integrazione non di immediata facilità e allora questo come si realizza? Si realizza e anche questo lo lo notiamo in proprio in questi giorni in questo periodo ricordatevi che le leggi di cui abbiamo parlato sulla strategia dei dati sono avvenute in due anni dal duemila e venti al duemila e ventidue le leggi sulla tutela dei dati vengono dal millenovecento novanta con la direttiva questa è la prima uscita della proposta di direttiva novantacinque e quarantasei al duemila e sedici che sono l'anno in cui è stato promulgato sia il GDPR che il LED e poi è entrato in applicazione nel duemila e diciotto cioè l'elaborazione valoriale richiede tempi enormemente superiori dalla regolamentazione dei mercati dalla regolamentazione del business è più facile regolare il business che non regolare i diritti proprio perché è come se si entrasse in un negozio di cristalleria bisogna stare attenti a come si muove perché è un continuo bilanciamento un continuo compromesso è cosa che è molto meno vero nei confronti del business e allora come si eh conciliano questi questi due eh queste due libertà stiamo parlando di due tenete presente di due libertà fondamentali diritti e libertà fondamentali perché anche la libertà di impresa vi vorrei ricordare è scritta nella carta dei diritti fondamentali dell'unione europea quindi ha una valenza costituzionale la libertà di impresa alla pari sembra una una giusta precisazione ci ricorda appunto un elemento che a volte sfugge diciamo quando si dice io devo fare business no in antagonista no tu devi fare business rispettando i diritti così come l'individuo che vuole i suoi diritti non deve ostacolare ingiustamente indebitamente arbitrariamente il business quindi eh è è quella che gli americani dicono una win win transaction e non ci deve essere se c'è un loser vuol dire che non andiamo bene ma non andiamo bene come società non non andiamo bene in un paese come società come società evoluta non andiamo bene allora posso riprendere la sua metafora e chiederle come dire darle uno uno stimolo uno spunto in modo che eh seguiamo ecco il suo ragionamento anche da questo punto di vista la la strada l'autostrada che oggi stiamo percorrendo è una strada come dire dove ogni paese o diciamo agglomerato geografico pensiamo all'Europa quella distinzione di prima Stati Uniti Europa e Cina ma la strada che percorrono i cittadini europei delle imprese europee è una strada in cui siamo da soli o condividiamo anche con altri cittadini e altre imprese per cui i freni che noi abbiamo scelto di dotarci se la corsa è raggiungere una meta rischiamo di avere sulla stessa strada la nostra macchina che decide di giocare con delle regole è una macchina che invece ha regole e meccanismi diversi noi sappiamo che si sta perdendo qualcosa di estremamente profondo no quegli aspetti valoriali ma tant'è che su alcuni temi vince chi raggiungerà prima quella meta e si hanno deciso di gestire in maniera diversa sto come dire per eh provare ecco eh grazie ecco all'interlocuzione con voi a rappresentare uno dei dubbi che eh diciamo hanno le imprese a volte i cittadini e cioè siamo tutti concordi anzi per fortuna che siamo cittadini europei ma ahimè su alcune partite o abbiamo ormai ci ritroviamo su quella stessa strada dai figli che ahimè nonostante le le regole che vigono in Europa fino a qualche tempo fa potevano autonomamente accedere a servizi eh proposti al di fuori dei confini europei senza nessun controllo o i nostri dati diciamo che per anni hanno circolato liberamente ecco questo punto è ancora valido o quello che ci diceva prima così come è accaduto per il GDPR che ha in qualche modo anche tracciato una nuova strada dove anche dall'esterno dell'Europa hanno deciso no perché c'era dietro un valore che poi tutti i cittadini del mondo comprendono bene e in qualche modo è l'Europa che ha trainato e sta trainando il resto del mondo ecco questo eh momento globalizzato in cui i confini eh diciamo sono a volte labili soprattutto nell'ambito digitale ecco ci ritroviamo ad aver deciso noi le regole del gioco dentro un circuito che è nostro oppure siamo in un campionato più ampio? Beh la risposta è ovviamente eh rimessa a una serie di fattori che non sono solo la norma ma sono anche i trattati internazionali che sono anche la capacità di negoziare eh in modo geopolitico teniamo presente che non sono problemi di oggi sono problemi eh che esistono dal momento in cui eh Marco Polo andava a negoziare la seta in paesi che non non si sapeva nemmeno che esistessero non tutte le carte geografiche avevano i confini della Cina e dei paesi asiatici e come si poteva negoziare eh sulla merce non era eh definito adesso eh c'è il World c'è il World Trade Agreement ci sono eh trattati internazionali di vario tipo è logico che l'informazione essendo un bene eh che potrei dire invasivo cioè che dovunque eh entra dovunque non ha limiti non ha confini territoriali mh esalta ulteriormente questi problemi della circolazione globale che sono sempre esistiti eh è ovvio che eh mentre si possono fare delle previsioni nei confronti dei rapporti tra Europa e Stati Uniti perché le culture le civiltà eh le tradizioni giuridiche eh non sono così eh diverse e ovvio che gli Stati Uniti hanno una maggiore propensione per il mercato è un una realtà civile che considera il mercato come prioritario cioè ci si mette d'accordo mentre si fa eh l'Europa ha una tradizione più codicistica più valoriale e quindi prima crea le regole e poi eh le persone le attività le imprese eh si gestiscono diverso e invece nel mondo asiatico le culture sono diverse c'è questa impronta statalista e dirigista che non va molto d'accordo con l'impostazione valoriale non per nulla quando sentiamo del G20 o del G7 ogni tanto viene fuori e poi si è parlato di diritti umani proprio perché sembra che il diritto umano sia una cosa accessoria una specie di allegato che sta da qualche parte ma il diritto umano siamo noi cioè il diritto umano è il business il business è diritto umano perché se non è una una percolazione di diritti umani vuol dire che è un qualche cosa che è contrario all'uomo e quindi che business è cioè l'uomo è sempre centrale nell'ambito della sua attività sia esso ricerca sia esso imprenditoria e sia qualunque altra cosa perché altrimenti vuole dire che non viviamo per noi ma viviamo per qualche altra cosa allora stavo dicendo qual è la la possibile soluzione quella che si intravede e ovviamente stiamo parlando in termini prospettici quindi sono solo delle lucubrazioni eh è che in effetti il legislatore sta incominciando un po' come fa eh il l'artista delle eh diciamo delle sculture con lo scalpello sta incominciando a eh aggiornare a modificare quel corpo di norme iniziali di tipo valoriale non intervenendo su queste norme ma al lato di queste norme e appunto vi sta intervenendo proprio con le leggi sulla strategia dei dati prima si parlava di portabilità bene ma c'è una portabilità quella che indicava l'ingegner gentile business to business ma c'è anche una portabilità business to consumer ed è sempre regola sempre lo stesso fenomeno di evitare il lock in cioè evitare che l'altra parte sia costretta a rimanere con lo stesso fornitore sia esso un cloud provider o una big tech per un discorso di disparità di rapporti di forza ma lo stesso vale per il singolo noi che per esempio vogliamo avere eh la nostra cronologia di navigazione piuttosto che eh la nostra rubrica telefonica quando andiamo a cambiare il telefono è portabilità quella è portabilità in questo caso è business to consumer quindi eh questi fenomeni si verificano anche a livello individuale e quello che si sta vedendo è che quella apparente rigidità che si ritrova nel GDPR dove si disciplina un rapporto uno ad uno cioè vale a dire l'azienda deve avere deve negoziare il trattamento dei dati con il singolo interessato con il singolo individuo si sta trasformando progressivamente ovviamente prendete con le pinze quello che vi sto dicendo perché è un processo laborioso dicevo che quando si parla di valori è come entrare in un negozio di cristalleria e di trasformare questo rapporto da uno a uno a uno a molti e guardate questa modifica è assolutamente fondamentale per lo sviluppo di un business basato sui dati perché non è possibile immaginare che la negoziazione sul business dei dati io la possa avere tramite delle transazioni individuali ma devo avere delle transazioni tendenzialmente collettive allora come si fa questo senza intaccare il problema del controllo dei dati da parte dell'individuo bene attraverso i famosi spazi unici dei dati dove il ruolo questo ruolo diciamo di collettore tra il singolo interessato e diciamo e i vari sfruttatori dei dati per un rapporto uno a molti è dato da degli intermediari quindi si viene a creare questa intermediazione dove il singolo in poche parole ciascuno di noi dice senti ma se questo mio dato viene utilizzato in questi termini io sono d'accordo quindi l'intermediario prende le regole che l'interessato le quali interessato è disposto a un utilizzo dei dati e sulla base di queste regole mette il dato a disposizione di tutti i fruitori questa cosa dello spazio dei dati è basata su un ecosistema fatto di due eleme due pilastri fondamentali un organismo dei dati che stabilisce le regole e un gestore di infrastrutture che fa in modo che queste regole si parlino si si muovano se si applichino in poco ecco questo nucleo che adesso ho detto in termini estremamente banali è un ecosistema consente di sviluppare questa transazione da uno a uno a molti che dicevo prima e allora si si potrà incominciare a parlare veramente di sviluppo anche sui dati personali grazie avvocato e diciamo per la chiarezza espositiva ma soprattutto perché tra le metafore che ci hanno accompagnato e quelle indicazioni efficaci diciamo ci sta ecco la nebbia davanti ai nostri occhi si sta dipanando perché ecco al di là della effettivamente di una materia così importante che caratterizza la vita dei cittadini e delle imprese da tanti anni c'è anche molta confusione quindi parlo anche a titolo personale quindi questa diciamo l'autostrada davanti ai nostri occhi si fa più più chiara passo all'ingegner gentile perché diciamo tra l'altro avvocato ha usato un termine che in qualche modo va anche sull'argomento del cloud cioè il tema del data space cioè questi spazi ecco che l'avvocato anche con immagini molto efficaci e ci ha fatto comprendere anche questo spostamento no del rapporto da uno a uno a molti poi con voi magari in un'altra trasmissione mi piacerà ancora sviluppare questo tema chiedendovi se magari una tecnologia innovativa come la blockchain posso dire una cosa così a beneficio dell'ingegner gentile che sicuramente poi lui elaborerà è un'altra metafora mi ricordo che quando eh diciamo più da piccolo ero portato a tenere i soldi in tasca a conservarli il salvadanaio eccetera c'era semmai l'adulto di torno che diceva guarda che i soldi devono circolare i soldi devono circolare la metafora è uguale per i dati se noi manteniamo i dati al nostro interno i dati devono circolare però naturalmente devono circolare con le regole e questo pure è molto efficace perché siamo abituati a immaginare plasticamente i dati come qualcosa no che va stoccato all'interno di un magazzino n magazzini infusi invece il dato ha diciamo questa caratteristica di fluido che deve scorrere all'interno come dire di tubazioni eh ognuno poi ha diciamo potrà trarne vantaggio eh quest'ulteriore diciamo elemento ingegnere le serve guardi per andare ecco dritti al punto assolutamente assolutamente diciamo del cloud e quello che eh abbiamo come dire da affrontare nel prossimo futuro io riprendo lo spunto lanciatomi dall'avvocato per eh citare una delle mie fasi preferite e ti porto bacone bacone diceva che l'informazione è come l'acqua se si ferma eh diventa stagnante quindi i dati in qualche modo i dati con trattati secondo questa logica che ehm uso un'espressione molto a me chiara con una questa logica di eh umanesimo digitale capace di conciliare i diritti della persona con i diritti della società è una una cosa molto importante quindi in effetti e questo elemento è un elemento chiave della strategia europea dei dati bilanciata dalla Commissione europea quindi in qualche modo questa strategia come eh in qualche modo possiamo eh descrivere rapidamente gli obiettivi quindi definire le modalità con le quali vengono accolti questi dati costruire il famoso quadro giuridico del quale abbiamo parlato cogliere i vantaggi eh dall'utilizzo di questi dati sia per un discorso di produttività e compiegare i mercati sia per ottenere benefici per il cittadino proprio fa l'avvocato parlava eh di questi chiamiamoli eh nuovi eh approcci alla condivisione dei dati pensiamo quanti vantaggi possiamo avere in termini di salute e benessere ambiente servizi pubblici convenienti per quanto riguarda eh il cittadino e ultimo ma non ultimo punto della eh strategia digitale europea raggiunge il concetto di sovranità digitale ovvero sia capacità dell'Europa di agire in modo indipendente nel mondo digitale. Un dato molto semplice il 92% dei dati nel mondo cloud è su server statunitensi quindi già solo questo dato numerico e questo è un dato del World Economic Forum ci fa riflettere sull'importanza di questo concetto di eh sovranità digitale e quindi di autonomia digitale. È stato citato il tema dei data space europei qui in qualche modo la eh Unione eh europea ha ripreso un po' quello che era il concetto dei common goods del del medioeuro cioè mh praticamente sapete che c'era il diritto al pascolo eh nella eh nei nei dati fondi perché il prato veniva visto come in qualche modo un bene comune che mh serviva all'intera società. Ecco la mh strategia europea dei dati crea eh auspica la creazione di questi dati spazi dati europei in alcuni settori strategici settore industriale e manufatturiero del green deal, della mobilità, della sanità, della finanza, energia, agricoltura, pubblica amministrazione e gli schiste e competenze. Quindi questa strategia si concretizza da un lato nella incentivare la creazione di questi common european data space definendo architetture di condivisione eh dei dati e auspicando la realizzazione diciamo di una mh federazione di cloud eh in qualche modo rispondenti ai valori eh europei e ad alta efficienza energetica. Ehm la risposta eh concreta a questa eh iniziativa eh europea è stato il progetto GaiaX. GaiaX nasce come eh una soluzione per rendere operativa questa strategia europea di cui abbiamo parlato. Cosa propone GaiaX? GaiaX propone una struttura federata di hub, di nodi, di servizi cloud che operino secondo regole ispirate ai valori europei di rispetto dei diritti individuali e di garanzia di un mercato aperto e concorrenziale. La famosa come dire ehm il famoso equilibrio da raggiungere di cui ha parlato poco fa l'avvocato. Eh GaiaX nasce nel 2019 da un progetto inizialmente franco tedesco. È un'iniziativa nata all'epoca dei governi Merkel e Macron e dei rispettivi ministri dell'economia. Questi governi capiscono per primi l'importanza delle piattaforme tecnologiche e in particolare nel cloud. In particolare capiscono il rischio di perdere il controllo sull'economia e anche sulla politica in assenza di una reale sovranità digitale. Ricordiamoci che all'epoca negli Stati Uniti c'era c'era Trump che ha dato una forte spinta in senso sovranista e in qualche modo ha accelerato questa pesa di consapevolezza dell'impatto della della nostra dipendenza da piattaforme non europee. Però più che la natura non europea quello che era importante in qualche modo segnalare è che su queste piattaforme all'epoca non appariva esistere trasparenza, non aveva la possibilità di incidere in modo concreto sul controllo di queste piattaforme e soprattutto queste piattaforme creavano come abbiamo detto dei meccanismi di rockin. Da questa idea iniziale del 2019 GaiaX ha avuto un forte sviluppo, hanno aderito a GaiaX aziende di tutti i paesi europei ma non solo che hanno sposato questa iniziativa quindi da un progetto governativo è diventata un'affezione no profit con Sede a Bruxelles e nel cui board ho l'onore di partecipare che in qualche modo è finanziata completamente dai soci attraverso le loro quote. Anche qui i soci sono sia aziende fornitrici di servizi sia aziende utilizzatrici. Quest'anno, svolto recentemente il terzo summit mondiale il 17-18 novembre GaiaX ha contato 360 membri da tutta Europa e non solo. Ben 63 aziende italiane partecipano a GaiaX e costituiscono il terzo polo dopo tedeschi e francesi che sono i fondatori. Diciamo a GaiaX. Quindi ci siamo ricavati un ruolo importante. Quindi in qualche modo la notizia interessante è che a Parigi è stata annunciata udite udite la partecipazione a GaiaX della Banca Centrale Europea. Per rendere concreta l'idea dei data space di cui l'avvocato ha introdotto la visione, nel summit di Parigi sono stati presentati ben otto progetti faro, light house project, che in qualche modo ci fanno capire come passiamo dalle idee ai fatti. Ve li accenno, è stato presentato un data space sul mondo dell'agricoltura, come gli agricoltori possono mettere insieme le loro conoscenze della loro catena di fornitori per arrivare dai concimi ai fertilizzanti ai mercati di sbarco dei prodotti. È stato presentato il data space per l'industria automobilistica, quello per la mobilità, quello per la fornitura dell'industria elettronica e anche un data space di infrastrutture hardware che by design sono compatibili ai valori europei di GaiaX. Quindi in qualche modo GaiaX è un progetto aperto che crea questa struttura federata di nodi, di hub, che interagiscono fra di loro e questo è importante, in mediante rispetto di regole comuni che sono ispirate ai valori fondativi dell'Unione Europea. Sono sorti e stanno sorgendo hub di GaiaX in tutta Europa, anche in Italia è stato avviato con Confindustria un percorso per la realizzazione di un hub italiano e udito dite anche in Corea, in Giappone e negli Stati Uniti ben tre hub sono stati fondati. Quindi questo è un segno che i valori europei implementati poi in architetture concrete come quella di GaiaX hanno un successo, fra virgolette, anche al di là del, come dire, del perimetro stretto dell'Unione Europea. Aggiungo che parallelamente allo sviluppo degli oggetti faro di cui ho parlato e sempre per aumentare il livello di trust del mercato dei servizi cloud, GaiaX sta sviluppando un sistema di etichette, lasciatemi dire, che definiscono i livelli di trasparenza, controllabilità, portabilità e interoperabilità per tutti i servizi cloud che faranno parte di questo ecosistema. Quindi un servizio che andrà nel catalogo di GaiaX avrà dichiarati ex ante questi livelli di servizio che permetteranno ai clienti, ai customers, di andare a scegliere il livello del servizio, del livello di sicurezza che gli serve. Tra l'altro per la portabilità GaiaX ha indicato proprio i codici DWAI, di cui abbiamo parlato nel precedente intervento, come riferimento per la portabilità. Aggiungo sul tema interessantissimo dell'adeguamento alle normative. È stato citato molto interessante il paragone acceleratore-freno. Non bisogna nascondersi il fatto che per le aziende, rispetto dei regolamenti, è anche comunque un onere, un carico, un bargain. Ecco, anche qui GaiaX offreva una risposta perché entro marzo del 2023 verranno offerti dei servizi di verifica automatica dei livelli di compliance alle quelle che sono le regole europee. Quindi in qualche modo non solo le regole europee, diciamo, diventano un valore aggiunto, ma per le aziende con questi servizi automatici diventa più sostenibile il verifico exante di questi servizi. E questo è un qualcosa che ci permette di conciliare quel famoso equilibrio di cui si è parlato poco fa, in cui da un lato vogliamo che ci siano queste regole che rispettino questo umanesimo digitale europeo, ma che non diventino un freno competitivo per le aziende. Il cui GaiaX è effettivamente, come dire, una risposta concreta a questa che in qualche modo è una idea fondamentale nel rispetto delle libertà del cittadino e della libera concorrenza del mercato. Con questa proposta è veramente il tema di dare alle aziende il governo dei proprietari. Giustissimo e mi pare che con grande chiarezza abbiamo fornito strumenti concreti a chi ci ascolta per comprendere lo scenario in cui ci ritroviamo, gli strumenti che avremo a disposizione. Abbiamo visto forse il declinarsi delle infrastrutture immateriali, volendo racchiudere così in questa immagine e aspetti collegati a ciò che ci ha raccontato molto efficacemente l'avvocato imperiali e le infrastrutture fisiche, che ovviamente hanno anche degli aspetti immateriali, ecco, e quel concetto, come dire, in un quadro, ecco, in cui quel concetto che richiamavate, no, di ecosistema, che è un termine forse a volte un po' abusato, ma varrebbe la pena di ricordare che l'ecosistema è appunto un qualcosa, un organismo fatto di più parti che non ragiona come un arcipelago che ha, diciamo, le categorie della prossimità e della somiglianza, ma invece componenti diverse, come dire, che contribuiscono allo sviluppo, quindi l'aspetto immateriale e quello fisico e conciliano, in questo caso abbiamo parlato di una conciliazione, no, tra i diritti e le, come dire, le aspettative di mercato, anzi, l'avvocato ci ha detto, le due cose sono inseparabili, non ci può essere mercato se non c'è l'attenzione alla centralità delle persone. Siamo arrivati, come dire, al termine di questa trasmissione, ovviamente, sarà mia premura invitarvi ad una seconda edizione, diciamo, di questa chiacchierata, perché i temi sono di grandissimo interesse. Vi chiederei un'ultima battuta, perché lo avete tratteggiato, come dire, era all'interno, diciamo, di ciò che ci avete rappresentato, cosa possiamo dire rispetto a un tema particolarmente sentito in questo momento dai cittadini e delle imprese, cioè rispetto alla sicurezza? Un, come dire, è parte integrante di quello che ci avete raccontato dal punto di vista delle politiche e anche delle infrastrutture? È un qualcosa di diverso? O una, veramente una battuta che magari ci può introdurre per una successiva trasmissione? Beh, prego, avvocato. Sicurezza e diritti sono due facce della stessa medaglia, quindi quando si parla di diritti si parla inevitabilmente di sicurezza. Non c'è un soggetto che vuole vantare dei diritti senza sicurezza. Grazie. Ingegnere? Guardi, allora abbiamo visto che la strategia digitale europea ci sta comportando un quadro normativo molto interessante. In questo quadro normativo la cyber security occupa una posizione privilegiata. Non abbiamo parlato, ma esiste il Cyber Security Act, che in qualche modo stabilisce un po' le regole della costituzione europea della cyber security. Vi sono le direttive NIS e NIS2 per le infrastrutture critiche. Vi è il Cyber Residence Act che mette in sicurezza le supply chain digitali, definendo i criteri di sicurezza dell'IoT. C'è il regolamento d'ora per la sicurezza dei servizi finanziari. Diciamo che sono elementi fondanti, come dire, e basici della strategia digitale. Quindi questi sono assolutamente core della strategia. Tra l'altro, Gaia X garantisce che tutti i servizi siano certificati secondo i certificati europei che ENISA, l'Agenzia Europea della Sicurezza, metterà in campo. Quindi in qualche modo la Cyber Security è uno dei pilastri della strategia europea e del quadro normativo di cui abbiamo appena parlato. Perfetto. Allora, grazie mille. Io vi ringrazio ancora per la disponibilità, per la partecipazione a questa chiacchierata densa, interessante, che ci ha arricchito, arricchisce chi ci ascolta, ci ha fornito una serie di strumenti formativi, un quadro di conoscenza utilissima sia nella vita diciamo delle imprese, siano esse le PMI a cui si rivolge penso ad un'industria, ma anche alle grandi imprese, i cittadini, non abbiamo lasciato nessuno, anche la pubblica amministrazione. Quindi ringrazio l'Avvocato Rosario Imperiali, che ha fondato e guida il network Imperiali. Grazie di nuovo Avvocato. Ringrazio l'ingegner Aniello Gentile, dirigente dell'unità Global Cyber Security di Enel, nonché membro di una serie di iniziative che ci ha raccontato, in particolare sta seguendo tutto ciò che riguarda il mondo Gaia X. Vi ringrazio, ricordo alle ascoltatrici e agli ascoltatori di seguirci sui nostri canali social, di seguire i podcast di Radioattiva, in particolare ovviamente Talk About IT e quindi vi invito alla prossima trasmissione, grazie ancora e arrivederci. Buonasera a tutti.